I dati del rapporto Maremostrum 2024, con quasi 23.000 reati accertati dalle capitanerie di Porto e dalle forze dell'ordine, fotografano una situazione insostenibile nelle regioni costiere e nel mari del nostro paese. Abusivismo edilizio, maladecurazione, rifiuti, inquinamento, pesca illegale sono minacce che vanno combattute con molta più decisione da parte del Governo e del Parlamento, come proponiamo di fare noi concretamente. Presentiamo questo rapporto ogni anno per ricordare la memoria di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, straordinario uomo impegnato per la difesa di questo patrimonio inestimabile che è stato ucciso 14 anni fa.